Lettera agli Efesini, capitolo primo, dal verso 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati a essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della Sua gloria, all'ode della gloria della Sua grazia, che Egli ha concesso nell'amato Suo. Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione, mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, della quale Egli è stato abbondante verso di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che Egli aveva già prima in Se stesso formato, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sulla terra. In Lui, dico, nel quale siamo pure stati fatti eredi a ciò predestinati secondo il proposito di Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, affinché fossimo all'ode della Sua gloria, noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza. Avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della Sua gloria. C'è una serie di gloriose affermazioni in questo brano che abbiamo letto, che parla della grazia, del cambiamento della condizione del nostro cuore, che per mezzo dell'opera di Cristo ci ha fatti figli e quindi inevitabilmente eredi. Eredi di un regno che è oltremodo glorioso, è inimmaginabile. L'Apostolo Paolo dice appunto questo, è indescrivibile, quindi si sottrae al tentativo di descriverlo perché dice è ineffabile, è indescrivibile. Le parole non sono sufficienti, ma quel regno di gloria in cui la perfezione è ovunque regna, in quel regno di gloria noi siamo stati predestinati a vivere, ad essere figli, ad essere eredi, avendo il dono più grande, Dio come Padre, poiché in Cristo. Egli ci ha adottati. Ma proprio per questo l'Apostolo Paolo, sia nella lettera ai Galati, sia nella lettera ai Romani, fa un'affermazione, sempre in relazione al fatto che siamo figli. In Galati dirà, poiché siamo figli, egli ha dato a noi lo spirito del figlio suo. E in Romani dice che tutti coloro che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E qui l'Apostolo ritorna con questo concetto in modo un po' diverso, ma sottolineando la stessa verità. Cioè il fatto che coloro che appartengono a Dio sono suggellati o sigillati con il sigillo dello Spirito Santo. E questo termine di paragone che l'Apostolo Paolo usa qui è veramente profondo e apre la mente a una serie di riflessioni, di meditazioni, che ci spingono a considerare quanto questa illustrazione sia gloriosa. Cioè il fatto che la presenza dello Spirito Santo in noi e in tutti coloro che sono redenti, poiché tutti coloro che sono redenti hanno lo Spirito e coloro che non hanno lo Spirito non sono redenti, tutti coloro che sono redenti hanno un sigillo di appartenenza. E questo sigillo ci viene dato non solo da Dio Padre, ma è Dio stesso lo Spirito Santo dimorante in noi. Ora questo apre un lungo dibattito e una lunga riflessione nei nostri pensieri per quel che riguarda la responsabilità di essere il Tempio dello Spirito Santo. Ma in quest'oggi io voglio invece soffermarmi sul significato dell'essere sigillati con lo Spirito Santo, a parte quelle che sono le responsabilità. Il sigillo ha un significato bellissimo e conserva in sé più significati. Il primo è il segno dell'appartenenza. Sapete, i primi versi che io lessi nella parola di Dio in Isaia 43, quando il Signore mi salvò in una notte dopo una breve preghiera, hanno questo pensiero in sé dell'appartenenza. Non c'è benedizione più grande che un uomo possa possedere se non quello di essere certi di appartenere a Dio, di essere stati riscattati. L'appartenenza al Signore è tutto ciò di cui l'anima mia ha bisogno. Perché se io so che Cristo mi ha acquistato, allora io so che la mia anima è nella condizione di una beatitudine perfetta. Perché ciò che Dio afferra e ciò che Dio soprattutto, e questo è la straordinarietà della grazia di Dio, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che per acquistarsi dei figli deve pagarli dopo averli creati a prezzo del sangue del figlio suo, è qualcosa di inimmaginabile. Ma questo prezzo pagato, questo amore espresso e la potenza che c'è in Dio nella sua omniscienza, nella sua onnipotenza, nella sua eternità, immutabilità e onnipresenza, è qualcosa di glorioso. Perché so che dal momento in cui il sovrano dell'universo mi ha voluto al punto da versare il sangue di suo figlio per acquistarmi e farmi suo, io so che sono nel luogo più sicuro dell'universo, sono nelle sue mani e che egli custodisce la mia vita come la pupilla dell'occhio suo e che il fatto che io gli appartengo mi dimostra che egli mi ha strappato da un altro che un tempo possedeva la mia vita, ma che ora non ha più potere su quanti gli appartengono. E quella presenza dello Spirito di Dio è certezza per noi. Quel sigillo non è stato messo in modo temporaneo, vabbè, lo metto lì, poi vediamo quello che accadrà. Quel sigillo è stato messo nel tempo ma per durare per l'intera eternità, perché questo è lo scopo della morte di Cristo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui ed è sigillato con il suo sigillo non perisca ma abbia vita eterna. Ed è questo quello che per noi conta più di ogni altra cosa. Noi ci freggiamo di appartenere a Dio non perché apparteniamo a questa o a quella denominazione, ma perché lo Spirito di Dio ha cambiato la nostra vita dopo averci chiamato, dopo averci convinto di peccato, ha trasformato il nostro cuore, ci ha fatti nascere dall'alto e ha messo la sua presenza in noi. È per questo che noi diciamo siamo del Signore ed è per questo che io ribadisco e ribadisco sempre che la fede di un vero credente ha sempre origine in Dio. Se manca l'azione efficace, miracolosa e potente di Dio, non si può dire che un uomo abbia la fede salvifica in sé. Ma grazie a Dio perché scrivendo agli Efesini l'Apostolo Paolo afferma noi siamo suoi. Perché? Perché egli ci ha sigillato. Ma c'è un altro aspetto e questa è una cosa molto 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 bella che è sinonimo di autenticità, il sigillo. Quando un proclama veniva letto dagli araldi ai tempi antichi doveva portare il sigillo del re perché avesse autenticità e quando la gente vedeva il sigillo del re automaticamente lo ascoltava sapendo che quella era voce di re del sovrano. Ebbene l'autenticità della fede sta proprio in questo. L'autenticità e la schiettezza dell'opera di Dio in un uomo, in una donna, in un credente sta nel fatto che devono essere evidenti i segni dell'opera dello Spirito Santo. Infatti l'Apostolo suggerisce di provare gli spiriti, di provare le persone, di provare i sentimenti, di mettere alla prova. Gesù dirà voi li riconoscerete dai loro frutti perché la presenza dello Spirito di Dio nella vita di un uomo non è cosa da poco che non lascia traccia di sé, deve lasciare segni evidenti. Ci deve essere un prima e un dopo e ci deve essere un cuore che anche se non perfetto porta i segni dell'opera dello Spirito di Dio. Ed è questo il senso. L'autenticità della fede non viene proclamata a parole ma con la manifestazione dello Spirito di Dio e della sua opera in noi. Ecco perché Paolo scrivendo a coloro che mettevano in dubbio l'autenticità del suo Evangelo e l'autenticità del suo ministerio, egli dirà io sono venuto a voi non con parole, quelli sono capaci tutti a dirle, ma con manifestazione di Spirito e di potenza. Ed è questo che rende autentico il messaggio. E l'autenticità è strettamente legata all'autorità. Infatti l'araldo che portava il sigillo non solo manifestava di essere un portatore autentico del messaggio del re, ma ne aveva anche l'autorità. Infatti colui che veniva nel nome del re aveva ogni autorità. Ricorderete che quando anticamente un re, e anche nella Bibbia ne abbiamo traccia, dava autorità a qualcuno, si toglieva l'anello col sigillo reale e ogni cosa che era sigillata aveva l'autorità del re. Ed è per questo che l'Apostolo poteva parlare con autorità, perché sapeva da chi aveva ricevuto il messaggio e portava i segni. Ecco perché il messaggio degli Apostoli era autorevole, perché segni, prodigi e miracoli seguivano il loro parlare. E quei segni, quelle potenti manifestazioni dello Spirito Santo, non solo davano autenticità, ma anche autorità. Infatti le guardie che erano andate ad arrestare Gesù, quando sentirono quelle parole gloriose, tornarono indietro perché la loro autorità era niente rispetto a ciò che egli manifestava. Ed è così che perché il nostro cristianesimo, il nostro messaggio, affinché la nostra testimonianza sia autentica e autorevole, ha bisogno della manifestazione dello Spirito di Dio. Ed è questo, quello che noi dobbiamo portare nel mondo. Ma c'è un'altra cosa che voglio dirvi riguardo al sigillo ed è qualcosa che nutre abbondantemente la nostra speranza. Un'altra cosa aveva il sigillo, aveva il senso dell'inviolabilità. Mi spiego. Se io consegnavo un messaggio a un messo, il sigillo non solo dimostrava che apparteneva a me o che era autentico e che aveva la mia autorità, ma serviva a sigillare, cioè a chiudere il messaggio in modo che non potesse essere aperto da qualcun altro. E quella chiusura attestava che il messaggio era stato portato senza essere violato. Quindi serviva a custodire un segreto per un tempo finché quella lettera non fosse stata aperta. Sapete cosa mi ricorda questo? Mi ricorda quello che Paolo scrive nel capitolo ottolo della lettera ai Romani? Che la creazione stessa aspetta la manifestazione dei figli di Dio e ancora dirà la parola di Dio ancora non è apparso quello che saremo. Ma quando Egli verrà allora noi saremo simili a Lui. Vedete il mondo, il capitolo 11 della lettera degli ebrei, questo è straordinario, il mondo ha trattato da sempre i credenti come cosa da poco. Lo ha fatto con il nostro Maestro, con il nostro Signore. L'hanno coronato con una corona di spine, l'hanno umiliato, battuto, crocifisso. Ma quando tornerà? Non tornerà con un corpo di umiliazione, ma tornerà come il Re dei Re e il Signore dei Signori. E noi saremo manifestati con noi, quali redenti. E la presenza dello Spirito in noi è quella certezza, quella caparra, come altro, come dirà più avanti, quella caparra che manifesterà un giorno tutta la ricchezza che ci è è stata donata. Per adesso ci è stata data la caparra, poi ci sarà stata, ci verrà donata la gloria intera di quella redenzione che godremo appieno quando i nostri corpi saranno trasformati nella gloria che vivranno per l'eternità. E allora, allora sarà manifesto ciò che adesso, pur portando il sigillo del Re, agli occhi di molti è nascosto. E la gente guarda a noi un po' come gente illusa, come gente credulona, come gente che sta sprecando la propria vita, ma quando quel sigillo si aprirà, quando i nostri corpi saranno redenti, quando la gloria di Dio sarà manifesta ad ogni occhio, anche noi saremo manifestati nel completamento dell'opera di grazia, nella gloria che Dio ci ha donato. E la presenza dello Spirito di Dio in noi è certezza di tutte queste cose, ma proprio per il valore immenso che lo Spirito di Dio ha. Noi dobbiamo, fratelli e sorelle, vivere per alimentare la sua presenza in noi, per favorire l'opera sua in noi, per piegare i nostri cuori alla sua presenza, per imparare a trovare la totalità della nostra gioia, in questa gloriosa grazia che ci è stata concessa, di albergare nei nostri corpi mortali la gloria della natura divina che alberga in tutti coloro che credono in Lui, per redimerli, per santificarli, per condurli, istruirli, ammaestrarli, consigliarli, consolarli. fino al giorno della manifestazione, quando quel sigillo sarà infranto, affinché la lettera sia aperta dinanzi agli occhi di tutti, per dimostrare quale gloriosa realtà sia avere l'opera di Cristo nella nostra vita. Ed è per questo che la Chiesa deve scoprire che la gloria di Dio perfetta è dinanzi a noi. Non sappiamo quando si aprirà, ma sappiamo che sarà molto presto. Ma v'è una gloria infinita che alberga dentro di noi. E questa gloria, se la vogliamo vivere, non dobbiamo aspettare con le mani in concerte, ma dedicarci studiando la Sua parola, pregando, cercando il volto di Dio e alimentando l'opera Sua in noi. A volte noi diciamo Spirito Santo discendi e il senso della preghiera è chiara. Vogliamo la manifestazione, ricordando la discesa dello Spirito Santo della Pentecoste. Ma la cosa gloriosa è che se siamo redenti, la terza persona della Trinità, Dio stesso, abita in noi. Ed è Dio stesso che continua a dirci, togli di calzare. Quando pensi, quando parli, quando agisci, togli di calzare. Perché il luogo è un luogo santo e quel luogo sei tu. E noi dovremo portare alla massima elevazione questo pensiero. Perché non è una dottrina, è una verità espressa in una dottrina. E quella verità la viviamo. Possa Dio ampliare gli orizzonti della nostra fede per farci comprendere quale gloriosa realtà è essere suggellati o sigillati dallo Spirito di Dio. E quale gloriosa responsabilità c'è? Ma quale meraviglia poter chiudere la porta dietro di noi e rimanere soli con lui, a tu per tu, con colui che ci brama fino alla gelosia, con colui che alberga in noi per l'amore infinito che ci porta? Quali profondità potremmo godere io e te se sapessimo far fruttare al meglio questo dono ineffabile che ci è stato donato, lo Spirito Santo dimorante in noi. Voglia il Signore aprirci la mente a comprenderlo e spingere il nostro cuore nell'obbedienza per trovare profonda, no di più, profondissima comunione con Lui, profondissima e costante affinché la gloria di Dio si manifesti in noi, così come la Sua parola promette, perché ogni sua promessa trova in Cristo il suo sì e il suo amen. Grazie per la visione!